un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su clash royale oggi in questo piccolo video è un video speciale che volevo dedicare al clan omega weapon clan che ho creato qualche tempo fa se seguite il canale lo sapete bene su clash royale veramente per gioco ma che con il passare del tempo è diventato veramente sempre più cattivo e pieno di membri veramente super attivi e siamo riusciti con più di due giorni di anticipo a completare il baule del clan e volevo andarlo aprirlo insieme a voi e anche ringraziare e fare complimenti ragazzi a unstoppable che ha riuscito a fare 427 corone in quattro giorni in meno di quattro giorni tipo cioè una cosa incredibile un mostro poi anche emi poco meno di 200 corone shock anche poco meno di 200 corone psychos anto onni mario angie big shark mattia snowkills che sarei io che non fatte solo 94 per impegni legati al canale alla vita non sono riuscito a giocare molto perché devo seguire diversi giochi anche christian tederico bonu frenchi natan santino sebi omen lucian cristiano charlie duat frederick tana glodo claudio kimbo destruction magic chiara 8 dark gladiator gabry vanishman iole adrian mr k alewerko emma vinom e antonio e sandro gli ultimi anche davidita che è rientrato da executioner che era uscito e non sapevamo ancora che non potevi riuscire ad entrare e rimanere dentro il baule mi dispiace per loro che non lo prenderanno detto questo apriamoci un attimo questi scrigni al volo prima di aprirci il baule questo qui che abbiamo vinto con il clan e andiamo a vedere un po che cosa riesce fuori anche perché oggi hanno fatto gioco collezionato una bella sconfitta la sfida dello stregone con queste tante gemme che ho penso che tenterò a pressione di riuscire a fare 12 vittorie allora vediamo un pochino che cosa esce fuori da questo scrigno allora 3150 oro 27 sgherri 9 domatori 77 arcerini gli arcerini quelli del video ragazzi è riuscito un video pazzesco di clash royale la pubblicità veramente fantastica l'ho condivisa anche su facebook mi pare 119 bombaroli 3 moschettieri 23 giganti che mi servivano perfetto così sono riuscito a farlo salire livello 8 243 spiritelli di fuoco che non mi servono grande 5 furia che lo uso tantissimo attenzione leggendaria mastino si va per il livello 3 perfetto una leggendaria uscita dal mastino sentito che non a tutti è uscita sono stato particolarmente fortunato va benissimo direi che sono veramente felice del mastino della furia e dei giganti che mi servivano anche 9 domatori che per lo più li dono solamente doniamo anche i tre moschettieri a psychos ragazzi volevo veramente fare i complimenti a tutto il mio clan perché ragazzi siete davvero cazzutissimi e grazie a voi ho aumentato anche parecchio le pretese da questo clan perché per rispetto a tutti i membri più attivi vogliono voglio che veramente tutti si impegnino per soprattutto quando ci saranno questi bauli della corona del clan e direi che per questo video è tutto io vi saluto e ci vediamo nei prossimi video di clash royale ragazzi perché ho deciso di farne un bel po di più di quelli che finora ci sono stati ciao 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 ciao